Ieri mi ha aggredito senza ragione. Chiaffiepuni. Non ne posso più. Urlando mi ha sfasciato la macchina. Non ne posso più. L'uomo nero esiste? Sì, l'ho sposato io. Non ne posso più. Se sei vittima di violenza psicologica e fisica fra le mure di casa, esci dal silenzio. Chiama gli operatori della rete antiviolenza di BRA al numero telefonico 0172438130.